buongiorno amici da massimo foghetti oggi è mercoledì 26 gennaio 2022 una giornata solleggiata lo vedremo dopo ma intanto cominciamo a rasserenare un po l'umore della giornata a vedere qual è il santo del giorno anzi i santi oggi sono due e sono santimoteo e tito chi erano santimoteo e tito erano discepoli di san paolo a cui l'apostolo indirizzò alcune delle sue lettere che poi si leggono durante le celebrazioni religiose entrambi furono primi vescovi l'uno timoteo di efeso e l'altro tito di creta furono esempi del valore universale del cristianesimo che dalla terra ebraica dalla palestina cominciò ad espandersi in tutto allora il mondo conosciuto dunque santimoteo e tito ebbene ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che ancora oggi il sole brilla un po su tutta la regione lo vediamo in questa cartina soleggiato il tempo salvo nebbie e foschie tra pesarese anconitano e urbinate specie al mattino e alla sera le temperature massime oscillano tra i 9 e 11 gradi e poi ovviamente fa freddo perché al mattino insomma la temperatura è piuttosto rigida il vento spira da ovest e all'interno un vento debole da ovest nord ovest cominciamo le nostre le nostre notizie la nostra rassegna stampa a partire dal resto del carlino sulla pagina di difano questa mattina e vediamo il resoconto della conferenza stampa che il comitato ciclovia del metauro ha convocato nella giornata di ieri una lettera che il comitato ha indirizzato ai sindaci del nostro territorio è stato un po il centro di questa conferenza stampa una lettera che invita i sindaci a sollevarsi contro il progetto della regione che delinea delle strutture rispetto al progetto esistente secondo il comitato per quanto riguarda la realizzazione di questa arteria espropri ponti e zigzag tra i trattori dice il titolo dite voi se questa è una ciclovia pista del metauro il comitato mette a confronto il progetto definitivo della regione con quello originario e diamo subito un'occhiata a questa a questa mappa a questa cartina vediamo in azzurro il il itinerario del vecchio progetto della ciclovia che è un itinerario che è parallelo alla ferrovia fanurbino mentre quello nuovo delineato dalla regione lo vediamo qui in rosso e vediamo appunto come si articoli in maniera molto varia tra i quartieri della città specialmente nel quartiere di sant'orso dove appunto si interseca con le vie esistenti e poi il giornale pone sempre la sua attenzione ancora oggi diciamo così sul caro vita e qui vediamo un altro imprenditore che protesta per una di quelle bollette veramente altissime micidiali che arrivano tanto da riuscire a vanificare i progetti di sviluppo di un'azienda anzi facendo nascere il così la tentazione di chiudere baracca e burattini quanti caffè devo fare per una bolletta così lo dice l'imprenditore gabriele giorgini che è titolare con la moglie di un bar pizzeria il mulino a fenile 3000 euro di luce e gas da pagare entro febbraio per il titolare di questo esercizio più del doppio vogliono farci chiudere più del doppio rispetto appunto ai soliti importi pagati in precedenza l'importo del consumo sarebbe di 2090 euro poi abbiamo 121 euro per il trasporto la gestione del contatore 198 e 621 euro di iva insomma un totale veramente esoso 3000 euro 3000 e 33 euro da pagare entro febbraio ci tagliano le gambe abbiamo fatto tanti sacrifici in pandemia per fare questa fine dice sconsolato gabriele giorgini e poi state attenti non è una truffa ma insomma è un modo è un modo diciamo così non certo corretto quello di presentarsi sono approdati anche a fano i venditori a domicilio dei rilevatori del gas gli agenti preparano il terreno affingendo e imbucando nelle cassette delle lettere volantini in cui preannunciano il loro passaggio simile a quelli che si distribuiscono in occasione delle sostituzioni massive dei contatori ed interventi della rete idrica e del gas qui c'è la precisazione dell'aset noi non centriamo niente questa è un'iniziativa privata un'iniziativa lecita ovviamente non ci sono problemi ma che sia chiaro non non è l'aset non sono le aziende che gestiscono il gas quelle che hanno fisso questi volantini ma è una ditta privata che vende i suoi apparecchi e quindi chiarezza fatta nulla da eccepire a pesaro l'ospedale nuovo e a fano è l'interrogativo che il sindaco massimo seri ha rivolto al assessore regionale francesco baldelli infatti due si sono incontrati e hanno parlato tanto di sanità quanto di viabilità in modo particolare della superstrada fano gorsetto dato che oggi al ministero ci sarà un incontro per definire insomma il progetto di questa arteria quattro corsie o solo due corsie come ha previsto il ministero insomma tutto il territorio locale propende per quattro corsie poi vedremo anche come si sono mobilitati anche gli altri sindaci del territorio e ancora purtroppo siamo costretti ad evidenziare un episodio di vandalismo nei confronti di un monumento prezioso per la città di fano quale il bastione del nuti sul pincio la parte superiore è stata lordata da queste scritte da questi disegni tracciati con una bomboletta spray pincio ancora nel mirino spray su mura e panchine scritte rosse e gialle sono comparse ovunque ed è stata già allertata la regresso arti l'associazione che per fortuna ha i mezzi e le capacità poi di riportare queste mura all'aspetto originario e vediamo anche qui l'arredo che è stato deturpato con queste scritte insomma sono episodi che dovrebbero essere denunciati con grande sono anzi con grande violenza ma dovrebbero essere anche repressi con la stessa determinazione una dichiarazione del sindaco di san lorenzo in campo davide dellonti che dice ai suoi colleghi agli altri sindaci del territorio è il momento di fare squadra per valorizzare ancora di più la valle del cesano i temi sul tavolo sono tanti sono emergenti viabilità attività produttive turismo sanità elaboriamo a detto dellonti insieme le proposte in modo da avere più forza nei confronti delle altre istituzioni banda ultra lenta in realtà recuperiamo i ritardi degli altri e con questo articolo il vicepresidente della regione marche mirco calloni risponde a san costanzo il quale rimproverava insomma i ritardi della giunta regionale per quanto riguarda la copertura del territorio con la banda larga ormai uno strumento essenziale per operare perché il computer il web è uno strumento ormai viene usato da tutti sia per necessità familiari che per necessità aziendali e bene il vicepresidente regionale dice che dal 2016 sino a settembre del 2020 erano stati collaudati solo nove cantieri mentre dall'ottobre del 2020 ad oggi sono stati ben 71 i comuni connessi con la fibra stiamo recuperando un ritardo inaccettabile ha detto carloni accumulato degli anni scorsi cercando di tenere alto il focus sulle marche in realtà carloni ribalta la frettata e dalla responsabilità dei ritardi insomma alla precedente giunta rifiuti abbandonati 40 multe così appostamenti e fototrappole hanno stanato i furbetti a san costanzo 300 accertamenti che hanno portato ad elevare 40 verbali amministrativi per un totale di 7.350 euro di sanzioni è il consuntivo del report che è stato effettuato ed è stato anche reso pubblico dal comandante della polizia locale di san costanzo andrea rovinelli sull'attività di contrasto all'abbandono dei rifiuti e all'errato conferimento degli stessi portati avanti insieme agli ispettori ambientali dell'aset insomma molti cittadini spesso si lamentano perché le isole ecologiche non sono ben tenute oppure sono usate impropriamente beh i controlli comunque ci sono a urbino vediamo un articolo che riguarda san bernardino san bernardino è il mausoleo dei duchi di montefeltro lì sono sepolti il duca federico sua moglie costa elisabetta gonzaga guido baldo il figlioletto che è morto in tenera età qui vediamo una fotografia dell'interno della chiesa la chiesa lavori di restauro sono sono iniziati ma verranno incentivati in occasione appunto del prossimo anniversario del duca federico pronti a riqualificare il mausoleo dei duchi il sindaco maurizio gambini annuncia un importante intervento per l'anno di federico dice faremo importanti lavori manutentivi insomma del corpo di federico c'è rimasto poco insomma ci sono state alterne vicende nel corso dei secoli per il mantenimento di questa di questa reliquia tra virgolette storica e non religiosa ma comunque è una cosa importante perché federico rappresentò veramente un emblema del l'uomo l'uomo diciamo così di cultura del combattente del capitano di ventura del rinascimento italiano ispiriamoci a federico per l'unità territoriale lo afferma lo scrittore poeta urbinate umberto piersanti il quale fa un'ampia riflessione su anniversario del duca memoria e ricordo le iniziative e in questo caso si parla del giorno della memoria della memoria dell'olocausto del del di quello che è accaduto appunto nel corso della seconda guerra mondiale ai danni degli ebrei urbino domani lancerà un video realizzato dagli studenti sono gli studenti dell'istituto scolastico raffaello del luceo artistico scuola del libro e dell'istituto comprensivo paolo volponi i quali hanno realizzato un video e intanto a macerata feltria verranno realizzate le pietre di inciampo cosa sono le pietre di inciampo sono delle pietre di metallo in modo particolare che vengono infisse sul selciato e spiccano rispetto al contesto circostante le vediamo qui in una fotografia sono le pietre che ricordano appunto episodi particolari in questo caso la memoria dell'olocausto pian di meleto da il commosso dio al commercialista giorgi francesco giorgi che si è spento all'està di 77 anni deceduto all'ospedale di urbino domenica scorsa giorgi era molto conosciuto non solo a pian di meleto dove risiedeva da 32 anni ma per la sua professione anche in tutto l'alto foglia quindi un cordoglio per quanto riguarda la scomparsa di questo professionista e poi vediamo in quest'articolo di fondo pagina come l'ami spieghi il perché della soppressione della linea urbino roma una linea importante perché veniva usata da non poche persone ebbene il servizio hanno spiegato il presidente di ami lara ottaviani e il direttore generale massimo benedetti il servizio è stato sospeso definitivamente nel novembre del 2020 a causa dell'imperversare della pandemia dovuta al covid e va ricordato che la grave situazione sanitaria fin dal suo manifestarsi ha determinato una fortissima diminuzione degli spostamenti in tutti i territori e quindi anche la linea urbino roma è stata annoverata tra quelle che hanno dovuto essere soppresse per la fano grosseto un vertice con il ministero abbiamo già anticipato questa notizia stamattina di fronte al consiglio superiore dei lavori pubblici i rappresentanti degli enti locali c'è anche maurizio gambini e esporranno le loro proposte le loro istanze comunque si fa un lavoro di squadra un lavoro che dovrebbe così essendo collettivo avere più incisiva una forza più incisiva rispetto al ministero ed ora diamo un'occhiata alla pagina pesarese del resto del carlino e vediamo come il nuovo regolamento del centro storico vieti l'apertura di nuovi esercizi particolari stop ai kebab al cibo da sport ok solo se italiano questa è una decisione che ha preso il sindaco ma dice ricci il razzismo non c'entra dunque bazar etnici in centro vietate altre aperture nuove attività vietate in centro in modo particolare tra gli assi di via branca via rossini e corso 11 settembre per bazar distributori automatici produzione dei cibi da sporto se non sono locali o nazionali la piadina per esempio si può consumare e portare via sale da ballo night discoteche money change e transfer attività di phone center telefonia fax internet point compro oro centri scommesse questi sono esercizi vietati in centro e poi altri particolari in questo articolo interessante soprattutto per gli operatori economici e per coloro che hanno così l'intenzione di aprire un'attività imprenditoriale negozio commerciale in centro storico nuovi negozi aiuti per pagare l'affitto il comune li garantirà nei primi tre anni questo è un importante aiuto per attivare per riaprire quelle vetrine che ora sono chiuse l'amministrazione infatti cerca di incentivare la riapertura dei locali ora sfitti cercando di calmerare il costo dei canoni il costo che è sempre particolarmente ingente un altro articolo per quanto riguarda la piscina di via togliati la gestione è stata assegnata a casa vl è stato firmato finalmente l'accordo con la federazione che avrà due corsie per sé per quattro ore al giorno la defezione del cooper nuoto il l'altro socio fa partire l'accordo dal prossimo 15 aprile non ci saranno se non ci saranno ulteriori inghippi la vicenda piscina pare ormai indirizzata verso una soluzione ricci è soddisfatto un'operazione virtuosa dichiarato per un piano per un pieno scusate utilizzo dell'impianto evitato il rischio dell'incompiuta grazie al comune che è fatto da intermediario in questa vicenda e poi non possiamo non parlare addirittura il carlino assegna due pagine alle cipolle di urbania l'inverno avrà la coda lunga fino a marzo secondo le previsioni degli spicchi delle cipolle ecco il risponso dei 12 spicchi se nel 2021 il sale si era sciolto poco facendo prevedere un'annata povera di precipitazioni come veramente c'è stata vi ricordate l'estate dell'estate scorsa con la siccità con la scarsità d'acqua quest'anno si prevedono diversi mesi segnati dalla pioggia soprattutto ad aprile si recupererà a settembre secondo la maestra elementare forlini di urbania che è la depositaria di una tradizione di famiglia che si tramanda da tre generazioni ovvero quella degli spicchi delle cipolle giovani la quarantena mette capo lo sport il grido d'allarme dei club di cui si fa portavoce marco arzeni che tra l'altro è un dirigente della montesi volley in due anni dice abbiamo perso quasi 20 ragazzi 20 ragazzi hanno smesso di praticare questo sport nel mondo del basket addirittura il termometro e quello dei mis le iscrizioni non crollano ma si lavora con un terzo dei praticanti insomma le iscrizioni ci sono però quelli che praticano poi veramente lo sport sono molto molto meno rispetto al passato studenti a casa per contatti con i positivi e questo il vero problema della scuola non tanto i contagiati il direttore regionale dell'ufficio scolastico fa il punto sul ritorno a scuola dopo le feste ma non sta a me criticare le regole ha detto il dottor filisetti che appunto è il direttore regionale dell'ufficio scolastico ma quali sono le novità più importanti le ha enunciate appunto filisetti il quale dubbio il quale dice senza dubbio il fatto che gli studenti di medie superiori vaccinati entro 120 giorni o guariti dal virus costretti alla didattica a distanza perché entrati in contatto con due compagni di classe vedono ridotta la quarantena da 10 a 5 giorni questa è una delle novità per i non vaccinati resti invece a 10 giorni il numero di casi positivi in una classe per interrompere la didattica in presenza resta di due ragazzi quindi sono due ragazzi positivi tutti si va in dad e questo ovviamente è uno dei provvedimenti che fa più discutere ancora sul resto del carlino piscine bolletta mostruosa 107 mila euro rincari del gas di novembre e questo è un altro episodio un altro settore che soffre del caro vita ma ora procediamo sul corriere adriatico vediamo che sulla pagina di fano si parla ancora di aset quale resoconto dell'ultima seduta della commissione garanzia e controllo gestione in aus possibile ma l'indenizzo è un ostacolo è una presa di posizione del consigliere regionale del movimento 5 stelle marta ruggeri che in seguito alla discussione in atto se aset debba riaprire o meno i contatti con marche multi servizi poi per affrontare le prossime gare dice che l'alternativa è quella di fare tutto in aus però interviene in questo caso il dirigente pietro celani dice che in questo caso l'investimento sarebbe milionario e insomma è difficile che il comune poi riesca a sostenere i conti comunque il dibattito continua la lega in calza è arrivato il momento di decidere lo dice il responsabile politico luigi scopelliti sul rischio di crisi del centro-sinistra per la spaccatura interna gira il coltello sulla ferita appunto della maggioranza ospedale moderno e funzionale il futuro del santa croce per serie il titolo e il titolo che riguarda un articolo sull'incontro che il sindaco massimo seri ha avuto con l'assessore francesco baldelli insomma vediamo che non ci dovrebbe essere distanza sulla necessità di valorizzare il santa croce come merita la terza città delle marche per numero almeno di popolazione e poi vediamo un provvedimento che ha assunto l'assessore all'ambiente si tratta della brunori che ieri ha evidenziato come si interverrà sulla massicciata che costeggia la ferrovia sulla spiaggia dell'arzilla il retropiaggia si allarga ci sarà più spazio per parcheggiare i mezzi ciclomotori e biciclette di coloro che raggiungeranno appunto il lungomare il peso della shoah sui bambini come sofferenza della memoria è l'esito del consiglio comunale che si è svolto a fano ieri sera dedicato in maniera in maniera uniformale diciamo così unitemale alla alla shoah alla memoria la relazione della storica bacchi a studenti insegnanti e consiglieri comunali come sofferenza della memoria e poi anche qui abbiamo le proteste del comitato della ciclovia del metauro che rilancia il progetto lungo la ferrovia osteggiando quello che la regione ha preventivato e cercherà di realizzare l'aiuto alle agenzie di viaggio l'aspettiamo già da un anno e le agenzie di viaggio sono uno dei settori che ha sofferto di più per la normativa anti covid ovviamente la gente non va più in giro per il mondo come lo faceva in precedenza a causa appunto dei rischi provocati dal covid ed è l'imprenditore Manno che dice non sono arrivati ancora gli aiuti che erano stati promessi i mille euro promessi lucarelli l'assessore al turismo dice provvederemo il comune dona 5.000 mascherini alle scuole a fossombrone sono gli studenti del donati e del mercantini la consegna sull'acquisto di 10.000 pezzi a Mondolfo Omicron ha raggiunto il picco in callo gli isolati per il covid 19 l'andamento della curva a Mondolfo San Costanzo e Monteporzio sono tantissimi i contagi lunedì si è raggiunto il picco di 1057 soggetti in isolamento per questi tre comuni ieri per la prima volta dopo diversi giorni consecutivi la somma totale delle persone costrette a casa per essere venuti a contatto con i positivi oppure sono in isolamento fiduciario nei tre comuni è scesa e si è fermata a 995 insomma da 1057 a 995 una cinquantina una sessantina di casi in meno un piccolo segnale del miglioramento delle situazioni invece un segnale importante per il comportamento di chi trasgredisce le regole è quello evidenziato da questo articolo a fondo pagina che riguarda San Costanzo multe nel 2021 per oltre 7.000 euro e una denuncia per chi non si adegua alle regole per il deposito ordinario dei rifiuti l'attività di tutela ambientale svolta dalla polizia locale anche con l'ausilio di ASET per i rifiuti 24 verbali su 40 e durante il 2021 sono stati effettuati oltre 300 accertamenti tra sopralluoghi e segnalazioni verifiche fotografiche che hanno portato alla rilevazione di 40 verbali e amministrativi diamo un'occhiata anche alla pagina di Pesaro vediamo come il nuovo piano covid su Marche Nord sull'azienda ospedaliera pesarese ora riduce il carico un tetto di 101 ricoverati ieri erano 114 nella ridistribuzione valutata dalla regione e nei reparti non intensivi solo 35 malati sono degenti quasi la metà dovrebbe essere trasferita un altro articolo riguarda l'avvio del cantiere del tribunale di via San Francesco Biagiotti ha presentato la commissione controllo atti sull'impasse dei lavori l'ipotesi che la ditta del ministero si presenti a Pesaro intorno a marzo per iniziare i lavori su questa vicenda resta aperta però non ci sono ancora certezze sulla data precisa non abbiamo il denaro per la tomba l'ex sedatore si impietosisce poi denuncia somma in prestito per oltre 23 mila euro una coppia a processo per truffa ma il giudice l'assolve perché poi non c'è stata l'evidenza la prova provante per l'esecuzione di questo reato invece è stato scoperto un giovane che si è liberato della droga gettandola nel bagno di un bar durante i controlli tra il Miralfiore e la zona della stazione si tratta di un giovane disoccupato incensurato di 24 anni che alla vista dei militari si è dato alla fuga e concludiamo la nostra rassegna stampa con l'articolo di Urbino Fano Grosseto, fronte compatto il summite dei sindaci con Paolini, Baldelli e tecnici della Regione in vista dell'incontro di oggi al Ministero speriamo che questo incontro sia risolutivo per la definizione di questo tormentato processo che cambia di volta in volta ormai da vent'anni a questa parte era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento come sempre a domani alle ore 7 e per le notizie del giorno guardate occhio alla notizia di questa sera alle 20.30 su Fano TV questo è tutto a risentirci buona giornata